Adesso ci ha seccati. Che fanfarone! E alcuno non è buono a rispondergli per le rime? Nessuno? Vado a lanciargli io stesso, vedrete un di quei tratti. Voi, voi avete un naso molto grande. E infatti. Oh, questo è tutto. Ma è assai ben poca cosa. Se ne potean dire, ma ce n'erano a Iosa, variando di tono. Si potea putacaso dirmi in tono aggressivo. Se avessi un cota al naso, immediatamente me lo farei tagliare. Amichevole, quando bevete, deve pescare nel bicchiere. Fornitevi di un qualche vaso adatto. Descrittivo. È una rocca. È un picco. Un capo affatto. Ma che? Le è una penisola in parola d'onore. Curioso. A che serve quest'affare, o signore, forse da scrivania o da portagioielli? Vezzoso. Amate dunque a tal punto gli uccelli che vi preoccupaste con amor paterno di offrire alle loro piccole zampe un sì degno perno? Truculento. Ehi, messere! Quando nello starnuto il vapor del tabacco vesce da un tale imbuto, non gridano i vicini al fuoco nella cappa? Cortese. State attento che di cotesta chiappa il peso non vi mandi per terra, a capochino. Tenero. Provvedetelo di un piccolo ombrellino, perché il suo bel colore non se ne vada al sole. Pedante. Pedante. L'animale che Aristofane vuole si chiami Ippocampelofantacamaleonte. Tante ossa e tanta carne ebbe sotto la fronte. Arrogante. Ohi, compare. È in moda quel puntello. Si può infatti benissimo sospendervi il cappello. Enfatico. Alcun vento. Un aso magistrale. Non può tutto infreddarti, eccetto il maestrale. Drammatico. È il Mar Rosso quando ha l'emorragia. Ammirativo. Oh, insegna di gran profumeria. Lirico. È una conca? Siete un genio del mare? Semplice. Il monumento si potrà visitare? Rispettoso. Soffrite. Vi si ossequi. Messere, questo sì che vuol dire qualcosa al sole avere. Rustico. Corbezzole. Dagli, dagli al nasino. Un cavolo gigante o un popon piccolino? Militare. Puntate contro cavalleria. Pratico. Lo vorreste mettere in lotteria? O, infine, parodiando Priamo tra i singhiozzi. Eccolo l'esecrando naso che la bellezza del suo gentil signore distrusse. Or ne arrossisce. Guardate il traditore. Ecco. Ecco a un di presso ciò che detto mi avreste se qualche po' di spirito e di lettere aveste. Ma di spirito voi, miserrimo furfante, mai non ne aveste un'oncia e di lettere tante quante occorrono a far la parola cretino? Aveste avuto altronde l'ingegno così fino da potermi al cospetto dell'inclita brigata servirmi tutti i punti di questa cicalata? Non ne avreste nemmeno la metà proferito del quarto d'una sillaba che, come avete udito, ho vena da servirmeli senza alcuna riserva, ma non permetto affatto che un altro me li serva.